ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su logicality un gioco che costa 6 euro 59 prezzo pieno sui 5 euro scontato ed è un gioco che è uscito il 14 di giugno del 2022 è un gioco che si rifà tantissimo a the witness si vede chiaramente sviluppato in unity chiaramente si ispira a lui perché perché dovremo risolvere una serie di enigmi infinita riguardo a varie tematiche adesso questo io l'ho già completato ma voglio voglio andare a cancellare il mio save e farvi a rivedere quello che è questo gioco si parte da questa caverna ovviamente non pecca un po in originalità però allora qui il gioco ovviamente ci fa capire che dobbiamo premere i tasti in base a quest'ordine quindi 1 2 3 e 4 e sblocchiamo questo diciamo che il punto forte di questo gioco seppur non originale è il prezzo assolutamente perché se non avete riscattato the witness quando era gratuito sull'epic store vi ispira o vi è piaciuto tantissimo e volete cimentarvi a tempo perso in un altro puzzle game questo può essere un'ottima scelta anche per il prezzo qua ci fa capire senza mettere i numeri che ovviamente bisogna andare al contrario quindi 4 3 2 1 allora qua abbiamo completato e ci basta seguire il filo rosso non c'è niente menu molto banali non c'è assolutamente spartani qua invece ci viene insegnato un ordine diverso quindi direi 3 quindi 3 1 4 e poi resta il 2 poi c'è quella paperella che suona che non ho ben capito da dove arriva comunque non è tutto così in gioco perché arriveremo un punto in cui cambierà la tematica e lo andremo a vedere a brevissimo questo caso è un grafico un po diverso comunque ci fa capire che bisogna partire ovviamente dal 4 poi si va all'uno poi si va al 3 e poi si va al 2 e abbiamo completato anche questo fantastico e abbiamo sentito un rumore di sferragliare insomma e vedete che qua siamo andati alla torre e dobbiamo attivarla completamente quindi ora ci basterebbe seguire un altro di questi ed arrivare in un altro punto io seguo un punto diverso quello che abbiamo fatto l'altra volta che ho fatto io personalmente l'altra volta che mi portava magari a un puzzle game con dei suoni però in questo caso vedete che questo è chiuso e questo è quello dei suoni quindi probabilmente sto andando sempre nello stesso punto vedete una serie di recinti chiusi bisogna continuare a seguirli seguire dove porta questa varia apertura per trovare l'origine e quindi iniziare a man mano vedete che uno tira l'altro e ci porta al primo che andremo ad affrontare adesso no è quello del suono ho scelto lo stesso dell'altra volta ma va bene dai allora qua bisogna seguire una linea guida allora inizia con quella sorta di suono questo è il secondo questo ok ok quindi uno ok non è proprio bisogna avere un minimo di orecchie in queste cose comunque allora l'uccellino il cane il gatto l'uccellino il cane il gatto allora l'uccellino il cane no quindi l'uccellino il cane no il gatto l'uccellino il cane il gatto no perfetto e abbiamo aperto un altro cancello questo invece è diverso perché ci mostra che dobbiamo fare erba l'erba quindi l'uminante che era qui credo infatti rimangono uguali poi abbiamo il gatto e il gatto credo sia qui no il gatto è qua ok quindi il gatto è qui poi il cane e poi infine quell'insetto che credo sia questo perfetto molto bene abbiamo aperto un altro recinto cioè qua non ci passeremo le ore l'ambientazione è molto bella vedete che poi ci porta in quella villa là in fondo diventa tosto andando avanti vediamo allora sono censurati due suoni allora c'è il luminante e il gatto in mezzo il gatto credo sia qui no sono stati tutti invertiti allora il gatto è qua il cane è lì l'uccellino è lì allora il gatto è il cane vediamo quindi questo no ok quindi questo e questo sono consecutivi credo allora quindi magari questo questo e questo no quindi questo 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 e questo no è sbagliato non riesco a capire c'è qualcosa in mezzo dei due quindi questo 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 e questo infatti a caso completamente a caso e lo ammetto perché non ci ho capito moltissimo questo dovremmo già averlo fatto quindi il filo ci porta qua e qua potrebbe diventare ancora più complicato ok il luminante cazzo che difficile prima la botta no no prima la botta questo giusto giusto poi lo swap no quello quello quindi questo questo e poi esclusione andiamo con gli altri due infatti molto bene andiamo avanti andiamo avanti questo è ancora piuttosto quindi un gatto un cane quindi un gatto un cane no gatto gatto cane illuminante allora gatto cane illuminante questo cazzo e l'uccellino alla fine scusami scusami questo questo e poi questo no è sbagliato perché parte falsato no farò qualche tentativo perché non vorrei fosse un qualcosa di questo è giusto erano al contrario i suoni erano al contrario abbiamo sbloccato la zona 6 quindi sono diverse zone vedete adesso ne abbiamo due proviamo a seguirne un'altra e vediamo dove ci porta la grafica è praticamente quella di The Witness e data la mancanza comunque di giochi di quel tipo lì questo Logicality potrebbe essere un bel passatempo calcolando appunto che il prezzo è veramente ridicolo questo non so dirvi però la quantità di ore richieste per risolverlo allora intanto si può saltare cosa che su The Witness non si può fare questo di qua questo di là questo di su questo di giù di là cazzarola ne troveremo uno poi aperto no questo qui no non si può saltare dentro nonostante il cancello si abbassa e qua che cos'è c'è praticamente 1 2 3 4 ah ok a cerchio 1 no si è giusto un cerchio va bene abbiamo aperto questo andiamo a vedere cosa c'è qui qui è un cerchio al contrario quindi al contrario quindi ma qua non c'è niente quindi andiamo in cerchio no però parte da qui quindi ok ottimo si poi non voglio spoglierarlo tutto non vorrei che 9 3 12 6 9 3 12 6 e lì c'è anche un orologio ah sì allora le 9 le 3 le 12 e le 6 e allora l'orologio spettacolo 10 no 30 45 15 0 ok quindi 30 è qui perché sono i minuti dell'orologio 45 15 e 0 mamma mia capita la chiave di lettura si apre tutto e ora siamo 12 15 45 6 12 12 15 45 6 that's it si apre anche questo e senso orario anti-orario 3 9 6 12 3 9 6 12 no si inizia dalle 3 però in senso orario anti-orario scusate però no cioè dice in quell'orario lì ma adesso vediamo se funziona così partendo ogni volta da una zona diversa 3 9 6 12 ma al contrario ok 12 9 no ho sbagliato 12 6 9 3 ho guardato al contrario quindi 3 6 3 6 3 9 6 12 quindi 3 9 6 12 no qui qui 3 9 6 12 continuiamo al contrario 3 9 6 12 qua 3 9 6 12 no non riesco a risolverlo questo è un bel bel enigma che poi ci porta probabilmente a l'ultimo lì che è ancora più complesso un intanto passa anche il cespuglio secco ragazzi non ha senso andare avanti perché credo deve essere stato abbastanza chiaro su quello che è da offrire questo gioco questo sarà un video breve appunto perché è un gioco per pochi secondo me ma anche per tanti dipende un po' quanti siete appassionati i giochi un po' The Witness che è chiaramente ispirato a quello fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima ciao ciao